buona giornata amici questa è la rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 21 ottobre 2022 il sole sorgerà tra poco sorgerà alle 7 e 29 tramonterà alle 18 e 15 iniziamo la giornata sotto legida dell'almanacco per vedere chi è il santo del giorno e vediamo che il santo di oggi è un santo particolarmente attuale è il beato giuseppe puglisi un santo siciliano che operò in un quartiere molto molto problematico come quello del brancaccio coloro che seguono la cronaca conoscono questo santo giuseppe puglisi e vediamo anche le previsioni del tempo oggi le previsioni del tempo non hanno subito grandi cambiamenti rispetto ai giorni passati vediamo che la giornata si mantiene stabile su tutte le marche ma con un cielo spesso fuscato da nubi alte di passaggio sono nubi inocue che non determineranno variazioni atmosferiche a tratti saranno anche compatti le massime si aggireranno sui 25 26 gradi sono in leggero rialzo rispetto alla giornata di ieri le minime si attestano sui 14 gradi i venti ispireranno con una direzione da sud est per quanto riguarda la costa e da sud sud ovest per quanto riguarda l'entroterra il mare si mantiene mosso ci ho detto vediamo una immagine del nostro territorio vediamo pesaro ecco il monte san bartolo e la località è baia flaminia baia flaminia un luogo molto molto particolare di pesaro ha subito tante trasformazioni nel corso degli ultimi 50 anni del secolo scorso ora è una bellissimo paesaggio un luogo di sosta e di vedute per coloro che poi hanno quelle belle case sul monte san bartolo questa è la visione dell'aurora ancora non abbiamo chiarore però insomma il sole sorgerà tra breve non da quella parte ma dalla parte opposta perché quella è la zona nord il sud l'est anzi è dall'altra parte allora apriamo il corriere adriatico oggi sulla pagina di fano e vediamo l'apertura le aperture dei giornali questa mattina sono le stesse sia il corriere adriatico che il resto del carlino si parla del piano asfalti il piano che è stato presentato ieri nella sala della concordia della residenza municipale dal sindaco massimo serie dal nuovo assessore ai lavori pubblici barbara brunori vediamo il titolo che appare sul corriere adriatico poi vediamo subito dopo quello che appare sul resto del carlino perché l'argomento è lo stesso carotaggi contro i furbi degli asfalti il comune archivia le gare al ribasso ci sono diverse novità innanzitutto l'aggiunta ai 4 milioni che erano già stanziati per asfaltare un congruo lotto di strade alcune sono state asfaltate altre ancora rimangono ad asfaltare ma a quella cifra è stato aggiunto un altro investimento di un milione 500 mila euro quindi con un altro lotto di strada ma a parte questo dicevo ci sono diverse variazioni sul modo di porsi nei confronti delle ditte che eseguiranno i lavori i lavori verranno controllati alla fine quando saranno completati verranno controllati tramite dei carotaggi per verificare la qualità del materiale e se i lavori sono stati fatti a modo sono stati fatti bene inoltre non si procederà più con le gare al ribasso che poi determina anche uno scadimento della qualità del lavoro ma si procederà in un altro modo soprattutto il fatto dei controlli eliminerà il fenomeno del subappalto perché poi il comune concede i lavori a una ditta che fa la sua offerta poi quest'altra ditta concede i lavori a un'altra ditta che fa un'altra volta la sua offerta e via via insomma il prezzo cala e quindi anche i lavori poi ne risentono questo non accadrà più perché la situazione dei controlli eliminerà appunto i subappalti così almeno c'è stato detto e i giornali questa mattina elencano anche le strade che verranno asfaltate abbiamo qui un elenco pubblicato in questa tabella sul Corriere Adriatico le strade da asfaltare con l'appalto di un milione e mezzo le strade da asfaltare dopo interventi di mobilità e sottoservizi e a Enel Aset con l'appalto di 4 milioni e poi i giornali parlano anche di tutte le strade che sono state già asfaltate insomma questa volta grazie alla temperatura mite infatti l'articolo comincia con il tempo è buono la temperatura è mite tutto favorisce la ripresa del piano degli asfalti intrapreso dall'amministrazione comunale un autunno caldo perché ci vuole appunto una situazione termica appropriata per asfaltare le strade vediamo anche l'articolo sul resto del Carlino sulla pagina di Fano lo troviamo a questo punto ripartono le asfaltature dribbling tra i problemi problemi che vi ho evidenziato poc'anzi il sindaco Seri viviamo una fase delicata ma stiamo anche entrando finalmente a regime con l'organico degli uffici e questo costituisce un acceleramento a tutte le pratiche burocratiche che servono poi per giungere all'esecuzione dei lavori e sempre lungo l'iter burocratico che precede poi l'esecuzione stessa degli appalti dei progetti torniamo al Corriere Adriatico per vedere un po' le altre notizie un articolo di Spalla rende merito all'impegno civico di Berretto Rosso quel cittadino che non resiste nel vedere le aiuole disadorne oppure così lasciate all'abbandono allora interviene lui personalmente e interviene con un amore, con una grazia con una partecipazione anche manuale che è incomiabile ormai non c'è più spartitraffico parapetto o panettone sono quei dissasori che vengono posti nei punti più problematici della circolazione che non catturi l'attenzione di Berretto Rosso come è stato ribattezzato per effetto del copricapo che indossa si tratta di Sauro, il fanese che oltre un paio d'anni lo si vede armato di pennello, secchi di vernice, attrezzatura da giardinaggio intorno a elementi di cittadino è intervenuto al Ponte Rosso, è intervenuto al Ponte Storto ed ora interviene anche in piccole aiuole c'è una bellissima nel parcheggio del cimitero in via Giustizia che è veramente un gioiello per come l'ha considerata, per come l'ha ridotta Maratona musicale alla Rocca una bella iniziativa di aiuto nei confronti degli alluvionati 10 ore di concerto con 50 artisti band e solisti sul palco per raccogliere fondi da donare a 5 comuni alluvionati ebbene si preventiva per domenica prossima 10 ore di musica dal vivo oltre 50 tra gruppi e solisti che dopo domani si alterneranno ogni 15 minuti su due palchi allestiti all'interno della Rocca Malatestiana ecco quindi in pillole il concertone il concertone perché veramente è un'iniziativa ponderosa il concertone di solidarietà con i comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre è veramente un'iniziativa senza precedenti sia per il coinvolgimento dei gruppi tanti sono i giovani che si presteranno a vivacizzare questo spettacolo sia appunto per la qualità degli artisti il benvenuto dunque dopo domani alle 14.30 con un'esibizione di disc giochi poi a partire dalle 15 spazio alle band e agli artisti che hanno aderito all'iniziativa la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte si paga un biglietto di 10 euro l'intero incasso poi sarà consegnato alla Caritas di Ocesana che a sua volta provvederà a distribuirlo tra i cinque comuni interessati dall'alluvione della nostra provincia i cinque comuni sono Cagli Cantiano Frontone Pergola e Serra Sant'Abbondio Sant'Abbondio un'iniziativa di questa sera alla Chiesa del Suffragio c'è una conferenza del professor Giuseppe Papagni che illustra un personaggio particolare e viene definito il cagliostro del nostro territorio perché era un poeta uno scrittore un cortigiano autore di opere musicali ma soprattutto era un astrologo e un alchimista si tratta di Francesco Maria Santinelli nato a Pesaro da una famiglia originaria di Sant'Angelo in Vado ebbene Papagni parla di arte ma parla anche di alchimia parla di esoterismo parla insomma di tutte quelle cose che sanno del misterioso e sarà veramente una conferenza interessante da seguire questa sera alle ore 21 nella Chiesa del Suffragio a Fano e qui rinasce un'associazione l'associazione del 27 agosto che ha una grande voglia di partecipazione pone in evidenza il titolo è rinato il suo dalizio dopo anni di silenzio una esperienza e una passione sono i due elementi che si mettono insieme per rivivacizzare le iniziative ebbene la prima è quella dell'adesione alla camminata per la pace di domani alle 17.30 che avrà inizio al Pincio e si concluderà in piazza 20 settembre un breve itinerario ma intenso per il fine per il quale è stata organizzata la camminata per la pace punta al cessato e fuoco in Ucraina e all'apertura di un negoziato anche i piccoli centri possono concorrere a sensibilizzare la popolazione nei confronti della pace passiamo a Colli del Metà a Colli al Metauro aiuti per il pagamento degli affitti è una notizia di cui abbiamo già parlato sono diverse le associazioni che chiedono un aiuto per pagare gli affitti la crisi incombe le situazioni del lavoro sono molto molto precarie e qui viene appunto detto come accedere ai fondi regionali Colli al Metauro per le domande impiegati per settori del reddito di cittadinanza sono tre per settori che aiuteranno a così a espletare i progetti utili alla collettività e quindi è stata bandita una campagna di sensibilizzazione per diversi aspetti abbiamo il problema degli affitti abbiamo il problema dei tumori al seno insomma è tutta una serie di iniziative che è posta sull'agenda dell'assessore ai servizi sociali del comune di Colli al Metauro Anna Chiara Mascarucci vediamo un attimo c'è anche un sostegno regionale per il pagamento dei canoni alla locazione a cui il comune di Colli al Metauro aggiunge su iniziativa proprio dell'assessore Mascarucci 10.000 euro dal suo bilancio quindi un'integrazione importante ambulanze la mappa dei soccorsi nella vallata Orciano infermieri HE24 Tinello Precisa sono un sindacalista della RSU è proprio il caso di ribadire in questa situazione per fare soprattutto chiarezza che nel sistema territoriale dell'emergenza urgenza l'ambulanza di terre roveresche è stata appena attivata e ha a disposizione un gruppo di infermieri di H24 si tratta di un mezzo di soccorso intermedio in grado di rispondere subito alle chiamate insomma un servizio importante come sempre detto per quanto riguarda il pronto soccorso vediamo anche la pagina della Val Cesano con nuovi investimenti a San Lorenzo in campo questa volta si recupera il lavatoio storico il lavatoio che è nel centro storico di San Lorenzo il sindaco dell'Onti dice saranno necessari 100.000 euro per riportarlo all'antico splendore per il risanamento e il restauro di questa di questa reminescenza poi di carattere medievale sono previsti un intervento sulle murature per i metrali e poi ancora sul pavimento in cemento e poi nella relativa parte idraulica appunto per riportarlo in funzione ebbè tipica San Lorenzo in campo pebellina con la sua grande abbazia la storica abbazia e poi questi aspetti medievali che ne contribuiscono a dare ancora più suggestione per i visitatori Senigallia Dionigi Lambertina Cavò si riapre chi sono Dionigi Lambertina e Cavò ebbene sono tre imprenditori che cercano di tornare alla normalità si rialza il rione porto lentamente ma gradualmente si rialza domani riapre il forno della famiglia Dionigi ebbene sono degli imprenditori che cercano di risorgere dopo quello che è accaduto giovedì prossimo sarà la volta di Cavò mentre la gelateria Brunelli potrebbe tornare operativa nella primavera del 2023 i primi di novembre si riaccendono i macchinari nel laboratorio di pasticceria di Paolo Manoni che tornerà a sfornare i dolci in vendita nel caffè dei portici sono tre esempi di ditte di 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 situazioni imprenditoriali che cercano appunto di risorgere dopo quanto è avvenuto e queste tre sono significative di come tutta la popolazione cerca di tornare alla normalità anche se questo non è facile infatti lo vediamo che ancora esistono dei problemi insoluti a Senigallia troppi rischi strade off limits chiusa e Molino Marazzana sono out le rampe d'accesso del ponte del Vallone e vedete qui la situazione ancora è ridotta su questa strada dunque una strada off limits per motivi di sicurezza due tratti di strada della chiusa e di via località Molino Marazzana in corrispondenza delle rampe d'accesso del ponte del Vallone inagibile dallo scorso 15 settembre quella notte maledetta quando si è riversata una bomba d'acqua su un lungo su una vasta un vasto tratto del territorio marchigiano si è reso quindi necessario diminuire il più possibile il traffico vietando anche l'accesso ai pedoni su questa strada e potranno transitare solo i residenti e pochi altri ovviamente i mezzi di soccorso mentre a Fabriano sono stati assunti 20 dipendenti in comune e per le opere sono stati trovati 3 milioni e mezzo il sindaco Gergo mette in mostra i risultati dei primi 100 giorni ora Cimitero e Pala Guerrieri sono appunto i settori che sono più all'attenzione dell'amministrazione comunale ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi del Corriere Adriatico condomini una terapia d'urto per il caro bollette gennaio la vera prova a gennaio infatti dovrebbero arrivare le bollette più salate gli amministratori sono le prese con le assemblee di condominio le assemblee di condominio non sono mai facili nei tempi normali pensate come possano esserlo in questi tempi che sono oltremodo difficili si tratta di elaborare i piani di rientro i rincari si fanno sentire c'è il nodo del riscaldamento centralizzato come farvi fronte lo speccato arriva dalle assemblee condominiali che si stanno tenendo fitte in tutto il pesarese fermo restando ormai il noto e inevitabile incremento delle quote a pesare sui singoli amministratori da Pedi Pesaro e Fano sono le richieste che arrivano dai nuclei familiari che hanno manifestato difficoltà al pagamento appunto delle bollette soprattutto per quanto riguarda le bollette della luce e del gas che sono quelle che hanno subito i rincari più forti più alti e si pensa anche al Natale taglia gli sprechi ma non certo alla magia si cercherà insomma di ricreare anche se con un occhio a risparmio l'atmosfera del Natale ne parla l'assessore Frenquellucci luminarie e albero accesi dalle 17 del pomeriggio fino appunto a luna di notte poi si spengono mille firme per salvare le 6-7 querce che devono essere tagliate dalla società autostrade e quindi i protestatari fanno ancora elevano il loro dissenso con un nuovo presidio in strada Carloni quella chiusa non si ferma dunque la mobilitazione dei gruppi spontanei un sit-in dalle 14 a la Gaida bisogna salvare a tutti i costi le querce di Moraglia e per questo pensate sono state già raccolte mille firme oggi ci sarà questo presidio in strada Carloni il comitato attende la risposta di società autostrade siamo fiduciosi hanno detto che si saranno gli spazi i modi per trovare un'intesa e per salvare dunque queste querce San Benedetto con clave per scegliere il progettista del futuro social housing aperti in municipio le buste per individuare il tecnico 150 giorni di tempo per il piano di recupero e beh ogni giorno seguiamo passo passo il restauro e il ripristino di questo grande complesso del San Benedetto nato come manicomio e poi ora trasformato in una residenza di carattere sociale a setaccio i negozi nella zona della stazione scatano 30 multe e c'è anche una denuncia ebbene la polizia locale ha riscontrato diverse carenze sia dal punto di vista igienico che amministrativo ed è stata elevata anche una raffica di multe a chi ai gestori degli esercizi pubblici e delle attività commerciali per il mancato rispetto delle norme per il momento hanno riguardato la zona della stazione ferroviaria a Pesaro e hanno interessato i negozi e i locali compresi tra l'area 24 maggio via Montegrappa via Bramante e via Bixio sono state rilevate carenze sia dal punto di vista igienico che amministrativo e oltre alle multe c'è scappata anche la denuncia e poi vediamo l'articolo che riguarda la pagina di Urbino dove si parla di lavori che vengono fatti al cimitero sono stati fatti al cimitero San Bernardino sono stati ha detto il sindaco lavori complessi e molto delicati e l'esito conferma le nostre scelte ha detto il sindaco Gambini qui lo vediamo ritratto con Giulia Volponi Quaresima Gostoli Michelli e Guidi sono terminati i lavori al cimitero che hanno visto la riqualificazione di due lotti sono 417 in totale i loculi sistemati e questo anche grazie al concorso appunto dei proprietari degli affittuari di questi loculi che hanno contribuito al progetto ora guardiamo il resto del Carlino abbiamo visto l'articolo di apertura dedicato appunto alle asfaltature e poi a fondo pagina abbiamo la manifestazione che si svolge in favore degli alluvionati domenica prossima più di 50 artisti sul palco per soccorrere i centri alluvionati giriamo pagina vediamo che la pagina numero 6 presenta diversi articoli c'è una risposta di Sir Filippi che risponde alla ditta che intende realizzare il progetto del campo agrivoltaico a Carrara nessun passo indietro sulla legge per gli impianti fotovoltaici ha detto Sir Filippi che è uno dei firmatari della legge che definisce un po' le aree in cui possono essere realizzati questi impianti e poi scoppia la polemica a Fano per quanto riguarda il progetto del pump truck nel parco urbano insorge e Anna Tonelli che è la presidente del comitato Bartolagi ci appare inappropriato e ridicolo il progetto ha detto appunto la presidente e poi l'iniziativa di alunni che ripuliscono la spiaggia 35 bambini della quinta elementare di Marotta della scuola Campus e della scuola Raffaello hanno partecipato ieri mattina alla iniziativa legata al progetto Puliamo il mondo e poi il preside del liceo Torelli che difende l'istituto un po' da un fuscamento di immagine che è stato effettuato dalla vicenda del professore che è sotto accusa a Pesaro e sotto processo per quanto riguarda maltrattamenti e robe del genere il nostro clima interno è sereno ha detto il preside Raffaele Balzano che intende ovviamente difendere l'immagine dell'istituto e poi un incidente stradale è accaduto nella giornata di ieri un 85enne fanese alla guida di una Peugeot che percorreva via Gabrielli ha investito una persona con una bicicletta che ha attraversato la strada non si è fermato e così ha centrato un 62enne che allo stesso tempo aveva iniziato appunto l'attraversamento sul posto sono arrivati vigili urbani i quali dovranno stabilire se l'uomo che traversava la strada era in sella la bicicletta oppure era a piedi con la bicicletta a fianco perché l'investimento è avvenuto nei pressi del passaggio pedonale a Sdrubale a Mondolfo lo spunto arriva da Grà il grande artista a Grà il titolo dell'iniziativa in programma domenica prossima tra ispirazione da un murale realizzato da Natale Patrizzi si tratta della guerra punica di un episodio della guerra punica a Sdrubale a Mondolfo e beh ci può essere stato il titolo questo della interessante iniziativa in programma per domenica alle ore 16 nella chiesa del Mengaccio in località Molino Vecchio che trae spunto da una grande murale che è stato realizzato da Patrizzi su una casa colonica dove appunto si raffigura la guerra tra romani e cartaginesi e beh anche questo è un modo per rivalutare la storia e l'ambiente del nostro entroterra a Urbino serve una legge per fare votare gli studenti sono dei cittadini come quelli che sono nati ad Urbino vivono la stessa situazione urbanistica la stessa situazione commerciale la stessa situazione sociale e secondo Oriano Giovanelli ex sindaco di Pesaro potrebbero votare anzi dovrebbero votare anche loro esprimere il loro voto e poi vediamo qualche notizia che riguarda Pesaro sul resto del Carlino si parla diffusamente di luminarie dimezzate per ridurre i costi nel periodo di Natale la proposta è di Damiano Bartocetti che è il presidente dell'Upli ovvero dell'unione delle proloco di carattere provinciale e qua invece abbiamo il presidente della provincia Giuseppe Paolini in classe dice Paolini che è un uomo saggio un uomo di vecchio stampo oserei dire e dite beh le ricette ci sono sono semplici per coprirsi dal freddo quello di portare un maglione in più ecco le regole contro il caro Bollette in classe portate un maglione in più ha detto Paolini istituti superiori il presidente dopo il raduno delle province dice luci e termosifoni spenti alle 17 stop alle riunioni serali temperature più basse nelle palestre stufette vietate e settimana corta ebbè la settimana corta forse desterà qualche polemica e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per questa sera per le notizie del giorno al TG occhio alla notizia di Fano TV condotto da Simona Zonghetti questo per il momento è tutto buona giornata a risentirci grazie a tutti